C'è una fagliacciata, che cazzo vuoi? Non mi lascia più parlare. Ma tu ti riprendi il potere, perché si fa? E' proprio perché cazzo, si ricordo la divisa, è fuori misura, cioè esiste una fagliacciata. E lì ha il potere, perché si fa anche il potere. Quindi è arrivata sempre cazzo, subito, perché stai dicendo, ma chi è flotta? Volevo, potete fare, mi parla di fiume? Sì. Grazie.